Non abbiamo scritto sbagliato, si chiama proprio candella e indovinate un attimino cosa fanno, esatto, fanno candele, le vediamo qua. Non sono però candele che bruciano, sono candele che sono fatte praticamente utilizzando un piccolo led nella parte inferiore che va a illuminare una fogliolina traslucida che adesso qua per la luce non si vede comunque una fogliolina che viene anche mossa sotto con un piccolo ventilatore quindi l'effetto diciamo è uguale a quello di una vera e propria candela. Esiste anche in versione bulb, la vediamo lì in quel lampadario che adesso ovviamente c'è buio non si vede benissimo ovviamente possono essere svitate le lampadine e attaccate queste particolari lampade che simulano l'effetto candela.